E anche al secondo relatore io voglio consegnare un'immagine, una fotografia, mi scuso se non sarà più allegra della precedente. La seconda immagine che io voglio consegnare al secondo testimone che abbiamo con noi questa sera è l'immagine di Mohamed Abdallah, 47 anni, profugo del Sudan, giunge in Italia convinto free, free at last, libero, finalmente libero come tanti altri. Finalmente trova un lavoro, un lavoro retribuito a 15 euro al giorno per 10 ore di lavoro sotto il sole. Il primo giorno di lavoro sotto il sole incandescente di un'estate torrida della Puglia, Mohamed, a 47 anni, venne colpito da un infarto e muore. Lascia una figlia. Eccolo qui il destino di questi immigranti. E questa immagine, un'immagine dolorosa, di nuovo, di lutto. Io la voglio consegnare a Ivan Sagné. Ivan Sagné viene dal Camerun, è un sindacalista, è stato protagonista di un gesto di disobbedienza che non voglio definire civile ma etica. Un giorno, lavorando con tante altre persone in quelle condizioni disumane, un giorno a Nardò, in Puglia, Ivan ha semplicemente detto no. Ha semplicemente detto basta. E quindi questo mite giovane del Camerun è diventato in qualche modo capo di una protesta. Una protesta che ha avuto anche dei riconoscimenti. Finalmente qualche riflettore si è illuminato sulla realtà del lavoro di schiavi, del lavoro schiavistico che si dà nelle nostre campagne, e in particolare nelle nostre campagne del Mezzogiorno. Ed è di questo, con questa triste immagine, che io do senza altro la parola a Ivan, ringraziandolo di aver accettato il nostro invito. Grazie Paolo, innanzitutto buonasera a tutti. Ringrazio la FCEI per l'invito. Marta Paralato di Lampedusa. Purtroppo l'immigrazione non è soltanto Lampedusa. Lampedusa è un tema. Lampedusa è un tema. Bisogna anche parlare di tanti altri aspetti. Io oggi parlerò del lavoro, come ha accennato Paolo. Sono Ivan Sagné, vengo dal Cameroon, ho trent'anni. Sono arrivato in Italia nel 2008, per motivi di studi. Perché l'Italia? Perché ho scelto l'Italia? Perché negli anni 90, avevo cinque anni, ho scoperto questo paese negli schermi, vedendo il mondiale di calcio Italia 90. Il mio paese, il Cameroon, venne a partecipare, per chi si ricorda, a questa gara. Per noi quel momento è stato un momento particolare che ha segnato la nostra storia. Io non sapevo nulla di calcio. Ho visto per la prima volta i giocatori, ho scoperto altre nazioni, non sapevo il concetto di nazione e di paese, attraverso il calcio. Io vedendo i giocatori, la squadra azzura, i giocatori italiani, per me, li trovavo tutti bellissimi, Roberto Baggio, Tottoschilacci. E' da lì che parte la mia passione, mi innamoro di questo paese e decido di venire a studiare in Italia. Non c'entriamo nulla con l'Italia. Noi siamo di marilingua francese e inglese. Il mio paese è stato colonizzato da queste due nazioni. Ho scelto questo paese per amore, partendo da quel mondiale. Da lì ho iniziato a studiare altri aspetti, l'arte, la storia, la cultura italiana. Per i miei genitori era strano, però era qualcosa che era partito dentro di me, dall'infanzia. E' così che questo sogno si realizza sette anni fa. Riesco a venire in Italia, riesco a venire a studiare qui. Ho studiato a Torino. Avevo scelto Torino anche perché sono un tifoso della Juventus. La mia scelta in Italia era sempre in base a qualcosa. Non era facile per me all'inizio. E lì ho capito che c'è una differenza tra il sogno e la realtà. Già il freddo bestiale, ho sentito la lontananza dalla famiglia. Non era quella accoglienza che mi immaginavo quando sognavo ancora questo paese. Però man mano sono riuscito a integrarmi, anche grazie all'aiuto dei miei compagni all'università. Poi succede che nell'estate del 2011 perdo la borsa di studio. E significava per me pagare tasse più alte. Avevo quindi bisogno di un lavoro. E con un passaparola un amico mi ha parlato della raccolta dei pomodori e delle angurie nel sud Italia. Era la prima volta per me di andare oltre le frontiere del Piemonte e della Lombardia, che erano le due regioni che avevo visitato fino a quell'anno. Arrivo a Nardò, in Puglia, in provincia di Lecce. Lì sono rimasto scioccato. Ho scoperto il lato oscuro dell'Italia. Sono stato ospite presso un centro di accoglienza, Masseria Boncuri, un centro di accoglienza di lavoratori stagionale, messo a disposizione dal comune. Lì c'erano tanti lavoratori africani, circa 700 persone. Ho dovuto fare come loro. Questo posto assomigliava a una tendopoli. C'era la miseria totale. Io, è vero, vengo da un paese povero, però nella nostra povertà c'è la dignità. Io a Nardò non ho visto la dignità. Per questo sono rimasto sorpreso da questo paese, perché fino a quel momento avevo sempre un'immagine molto positiva. Io per fare la doccia dovevo aspettare tre ore di fila perché in quel centro c'erano soltanto cinque bagni a disposizione per 700 persone. Ho dovuto dormire, comprare un materazzo. Era un'attendopoli. I numeri di tende a disposizione erano i sufficienti rispetto ai numeri di lavoratori. Sono arrivato tra gli ultimi. Quindi ho dovuto adeguarmi. Poi io sono arrivato là per lavorare. Mi hanno parlato del sistema del caporalato. Era la prima volta in vita mia di sentire la parola caporale. Il mio caporale era un sudanese. Io ero l'unico camorunense del posto. Questi caporali fanno intermediazioni di mano d'opera tra i proprietari terrieri e quei lavoratori. I caporali, alcuni dormivano con noi all'interno di quel centro, alcuni dormivano fuori. Venivano con dei furgoncini per trasportarci alle tre di notte. Iniziavamo a lavorare alle tre di notte. Eravamo costretti a salire su quei furgoncini. Un furgoncino da nove posti, eravamo lì 25. Eravamo costretti a pagare al caporale per raggiungere il posto di lavoro una tassa di cinque euro di trasporto. Era vietato a un lavoratore usare il suo proprio mezzo di trasporto, andare ad esempio a piedi in bicicletta. Devi salire su quel furgone scomodo e pagare la tassa di trasporto. Io ho fatto la raccolta dei pomodori. Il mio lavoro consisteva a riempire dei contenitori, dei cassoni. Un cassone pieno di pomodoro pesava tra tre e quattro quintali. Eravamo pagati non a ora, non a giornata, ma a cottimo. Un cassone veniva pagato dal caporale tre euro cinquanta per riempire tre, quattro quintali di pomodori. Tre euro cinquanta. Quindi la paga giornaliera era proporzionale ai numeri di cassoni che ognuno riusciva a riempire durante la giornata. Una giornata di lavoro che iniziava alle tre e finiva intorno alle cinque e sette di sera. Mi ricordo il mio primo giorno di lavoro come fosse ieri. Io alla prima ora, mentre ero ancora al primo cassone, il mio vicino che faceva quel lavoro da vent'anni aveva già riempito quattro cassoni. In quella giornata, e come gli altri, sono riuscito a riempire soltanto quattro cassoni per quattordici ore di lavoro. Quattro cassoni. Per tre euro e cinquanta ciascuno ho guadagnato quattordici euro. Ricordo che i caporali ci costringono a pagare durante la pausa quando c'è un panino. Il panino costa tre euro e cinquanta. Siamo anche costretti a pagare l'acqua al caporale. L'acqua costa un euro e cinquanta. Mediamente, un lavoratore, un bracciante agricolo che fa la raccolta dei pomodori in Italia riesce a riempire sette cassoni. Quindi guadagnare, avere un guadagno compreso tra venti e venticinque euro. In cui bisogna, come dicevo prima, scaricare altri costi. Cinque euro di trasporto, tre euro e cinquanta del panino, un euro e cinquanta dell'acqua. Ricordo che in quelle zone fa molto caldo, soprattutto d'estate, perché la raccolta dei pomodori avviene d'estate. Lavoriamo a 40 gradi, a 42 gradi. Questo è stato il caso, come l'ha ricordato Paolo, il caso di Mohamed, che non ha potuto reggere. Lavorare a 40 gradi sotto il sole e essere pagato a cottimo è micidiale per i lavoratori. Succede molto spesso che alcuni di noi si ammallano sul posto di lavoro. E i caporali, per esempio, per chi si ammalla, siccome queste zone sono isolate, voi sapete le campagne, non sono vicine ai centri abitati, sono proprio isolate. Un caporale per portare un lavoratore malato dal posto di lavoro all'ospedale chiede al bracciante 20 euro di trasporto. Questo sistema per me andava al di là del semplice sfruttamento, questo era riduzione in schiavitù. Ho lavorato per 4-5 giorni, poi ci siamo rivelati. abbiamo fatto lo sciopero. Abbiamo fatto il primo sciopero dei lavoratori braccianti in Italia. Non era semplice fare quel sciopero perché era un sistema conosciuto e saputo da tutti, dall'istituzione, dall'impresa ovviamente, dai caporali, da tutti. Non parliamo delle minacce che subivano costantemente queste persone, quindi per loro era molto difficile ribellarsi. Però in quell'anno siamo riusciti. Non era facile per noi organizzare questo sciopero, anche perché ho notato che anche tra di noi c'è una differenza. spesso sento dire che gli africani sono tutti uguali. Non è vero. Io, camorunense, mi sentivo diverso dagli altri. Non si può paragonare il tunisino e il senegalese. O il marocchino o il nigeriano. Già non parliamo la stessa lingua. Abbiamo una cultura, una concezione della vita completamente diversa. C'è chi accetta lo sfruttamento, c'è chi l'accetta meno. Nonostante questo siamo riusciti a convincere i compagni del Benfondato di rivendicare almeno la nostra dignità. Abbiamo fatto tre settimane di sciopero. lo sciopero ci ha portato a dei risultati molto importanti che sono andati al di là delle nostre aspettative. Siamo riusciti quell'estate a ottenere un risultato molto importante. Per la prima volta in Italia il caporalato, una pratica che esiste da oltre un secolo, è diventato un riatto penale. Siamo riusciti anche a ottenere da parte della magistratura gli arresti di queste persone, non soltanto i caporali ma soprattutto gli imprenditori perché sono loro i veri responsabili. Appunto questa legge, la legge sul caporalato che abbiamo ottenuto non era quella che volevamo ottenere perché quando noi abbiamo mandato il bisogno di legge al Parlamento loro hanno tolto la parte che riguardava l'impresa, hanno lasciato soltanto quella che riguarda i caporali sapendo che se tu arresti un caporale oggi ne arriva un altro domani. Però per noi comunque era un risultato molto importante. Dopodiché ho scoperto che ci sono tanti nardo in Italia. Il caporalato, il lavoro nero sono fenomeni diffugissimo in questo paese che ritroviamo sia al sud ma anche al nord. Qui nel Piemonte non lontano da qui ad Asti il nostro moscato preferito viene raccolto da macedoni che vengono sfruttati e guadagnano un'ora e mezza all'ora. A Saluzzo ci sono braccianti africani che vengono sfruttati non parliamo dei lavoratori in Sicilia delle lavoratrici rumene che subiscono degli abusi non parliamo dell'agropontino dove i lavoratori sì sono costretti a drogarsi per reggere il ritmo di lavoro non parliamo di Rosarno dove migliaia e migliaia di lavoratori vengono sfruttati per chi si ricorda della famosa rivolta di Rosarno lì è molto più difficile a Rosarno cosa succede che questi lavoratori quando arrivano a Rosarno non ci sono non c'è una condizione non ci sono strutture di accoglienza questi lavoratori vanno a occupare dei casolari abbandonati e lì non ci sono né gas né luce né acqua e i caporali approfittano di quella condizione girano i casolari e vendono ai braccianti delle gomme di macchine che questi bruciano per riscaldarsi perché la raccolta degli agrumi avviene d'inverno questi lavoratori girano tutto l'anno d'estate sono in Puglia per la raccolta degli ortaggi poi si spostano inverno a Rosarno poi in primavera alcuni vanno in Sicilia come dicevo prima per la raccolta del pomodoro di pacchino accassibile per le patate alcuni vanno al nord eccetera e subiscono molto di loro la tratta dei caporali e delle organizzazioni criminali il processo nostro a Nardò lo dimostra che sono gli stessi imprenditori italiani che organizzavano la tratta dei lavoratori addirittura dall'Africa verso l'Italia oggi lavoro con il sindacato e cerchiamo di contrastare questo fenomeno in Italia esiste circa mezzo milione di schiavi io soltanto ho due messaggi questa battaglia è una battaglia culturale che possiamo vincere noi come fin quando noi continueremo a consumare i prodotti questi prodotti senza farsi la domanda di sapere da chi vengono raccolti sarà difficile sconfiggere questo fenomeno abbiamo parlato del nostro compagno Mohammed che è deceduto recentemente Mohammed lavorava in nero raccoglieva i pomodori questi pomodori che si sanno di sangue e di morti dove sono andati a finire sicuramente negli scaffali dei nostri supermercati e molto probabilmente sulle nostre tavole a casa quindi questa battaglia la possiamo vincere noi se rompiamo la cultura dell'indifferenza poi mi rivolgo anche alla politica noi abbiamo bisogno di combattere questo fenomeno che è indegno ad un paese civile con fermezza e la politica ne ha i mezzi uno di questo uno di questi sono ad esempio i finanziamenti pubblici la nostra agricoltura che comunque gode di una buona salute perché bisogna ricordarlo l'agricoltura è uno dei rari settori di questa economia che è in crescita e quindi l'alibi della crisi non c'è non può esserci noi chiediamo soltanto alla politica di vincolare i finanziamenti pubblici l'agricoltura viene finanziata al 40% dalla pacca la politica agricola chiediamo una cosa semplice di vincolarli alla qualità del lavoro e dei diritti noi dobbiamo uscire da quel documo italiano per la quale viene prima l'impresa dobbiamo smettere di pensare che tutto sia il profitto che tutto sia il mercato e che i diritti sono solo per indotto bisogna ritornare all'essere umano grazie grazie a tutti grazie a tutti